Oggi nell'Aula Magna del Plesso Mazzini dell'Istituto Comprensivo Don Antonino Lamela di Adrano, primo incontro del progetto Viver Legali per sensibilizzare gli alunni sul tema della cittadinanza attiva e della legalità. Per occasione il Presidente della Proloco di Adrano, il Cavaliere Nicolò Moschitta, ha presentato l'iniziativa Vittime del Dovere per fare conoscere ai ragazzi appartenenti alle forze dell'ordine caduti in servizio e che quindi hanno sacrificato la loro vita per gli altri, come Ancelo Rognoni, Gerlando Falzone, Giuseppe Tomaselli, Alessandro Trovato, Carmelo Costa e Aurelio Spampinato. Eroi del passato da non dimenticare, ma questa mattina c'era anche un eroe di oggi, la danita Maurizio Cottone, che ha raccontato con grande emozione la sua presenza in Iraq nel 2004. L'incontro, rivolto agli alunni delle terze classi, si è svolto in due turni alla presenza di rappresentanti di Polizia e Carabinieri, Vigili del Fuoco, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Adrano e l'Associazione Antiracket Libera Impresa. Oggi presente per la prima volta anche il Sindaco della Scuola, con la fascia tricolore Flavio Alberio, eletta recentemente. Oggi è stata una giornata particolare con la presenza di un eroe vivente come Maurizio Cottone, che onestamente quando l'ho presentato mi sono emozionato. Ma al di là di questo noi abbiamo oggi ricordato come vittime del dovere il Carabiniere Reale Angelo Rognoni, il maresciallo Alessandro Trovato, il Carabiniere Carmelo Costa, l'appuntato di pubblica sicurezza Gerlanto Falzone e il commissario di Polizia Aurelio Spampinato. Nell'originario progetto erano quattro, oggi è stato incrementato con il Carabiniere Costa e il dottore Spampinato e in più ho aggiunto come esempio vivente da portare avanti quella di Maurizio Cottone. Maurizio Cottone allora con grande emozione questa mattina hai raccontato le tue avventure militari ma anche umane. Sì, oggi c'è stata questa riunione qui a Lamazzini come riconoscimento alla memoria delle vittime del dovere. Ringrazio il Cavaliere Nicolò Moschitta che ci teneva tantissimo che io oggi fossi qui con i ragazzi a raccontare la mia storia vissuta nei cinque anni dell'esercito. Moschitta ti ha definito un eroe vivente dei nostri giorni. Eroi siamo tutti coloro che ogni giorno dà il proprio servizio per la nazione, per il popolo. Ho vissuto questa situazione un po' particolare anche perché sono arrivato successivamente dopo l'attendato a Nasseria dove sono morti i carabinieri circa dopo tre settimane. E poi la tensione è stata molto alta nei giorni a seguire fino a quando è successa poi la battaglia dei ponti in cui siamo stati feriti 11 bersaglieri. Oggi sei vigi del fuoco, sembra al servizio della comunità. Sì, diciamo, vuol dire, non so, sarà il destino della vita, vuol dire che il mio destino è quello di cercare di aiutare il prossimo finché si può. Di quei giorni in Iraq cosa sei rimasto in te? Sono rimasti tanti bellissimi ricordi, anche perché vedere un popolo martoriato dalla guerra, magari questi ragazzi non vedono in televisione ma magari non riescono a comprendere qual è la vita in un posto come adesso in Ucraina dove i bambini non hanno acqua, luce, né videogiochi né giochi. Cercano di avere un mondo migliore e speriamo che al più presto si risolva la situazione. Un incontro emozionante da tutti i punti di vista. Per me è stato un onore veramente accogliere nella mia scuola rappresentanti di tutte le forze dell'ordine, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia. È stato veramente toccante. E poi vedere un po' scorrere sullo schermo, descritti anche dai ragazzi, tutti coloro che hanno contribuito a rendere più sicuro il paese, che hanno dato la vita per la nostra sicurezza, è stato veramente emozionante. È un inizio di un percorso lungo di cui vado orgogliosa veramente. Il nome del sindaco? Flavia. Cognome. Flavia Alberio. È stata eletta in maniera scusatene democratica. È stato un processo che ha coinvolto parecchio i ragazzini. Sono stati bravi e hanno esposto le loro idee. E io mi auguro che collabori con me al buon andamento della comunità scolastica in generale. Soprattutto porterà la voce degli studenti. Flavia, cosa significa per te indossare la fascia di colore a scuola? Per me, personalmente, è un grandissimo onore essere riuscita a ricoprire questo ruolo. e anche da esempio per tutti i studenti. Spero e mi auguro di riuscire a fare del mio meglio insieme a tutti i miei consiglieri. Spero e mi auguro di riuscire a fare del mio meglio insieme a tutti i studenti.